queste sono tre cardinaline del venezuela della mutazione pastello bruno diluito doppio fattore agli esterni ci sono due riproduttrici 2016 non colorate e al centro abbiamo una novella 2017 colorata come si può vedere sembrano delle piccole canarine mosaico rosso in miniatura e certamente la mutazione pastello bruno una volta detta isabella è la mutazione più attraente del cardinalino del venezuela che assume peculiarità maggiori e veramente piacevoli nei tipi diluiti e in particolare nel diluito doppio fattore l'accoppiamento di questi soggetti ovviamente avviene in purezza con maschi pastello bruno meglio pastello bruno diluiti in cui tutti i soggetti saranno pastello bruno diluiti all'acoppiamento di questo Grazie a tutti.